benvenuti da guampisi massimi esperti in questo nuovo video teoria se ci stai ascoltando per la prima volta iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere sempre le notifiche oggi andremo a parlare di un personaggio molto interessante mi riferisco a rox di gbeck naturalmente per facilitare il tutto lo chiameremo xebec quindi non come si pronuncia ma come si scrive rox era sicuramente un pirata carismatico ed anche formidabile sebbene naturalmente la sua forza le sue abilità individuali fossero ancora sconosciute infatti lui giunse ad acinose dove formò i rox che era una sciurma pirata composta da alcuni dei pirati più forti dell'epoca con cui terrorizzo tutti i mari con l'intento naturalmente di diventare il re del mondo ricordiamoci tra i vari sottoposti new gate big man kaido shiki leone dorato capitano john eccetera eccetera xebec era anche considerato il rivale più formidabile del re dei pirati gol di roger anche se all'epoca lui non era ancora il re forse ancora più formidabile di quello che poi sarebbe diventato successivamente il nuovo rivale di roger cioè barba bianca naturalmente queste sono affermazioni che noi prendiamo dateci da sengoku quindi non possiamo sapere nella realtà dei fatti se veramente fosse così o meno non stiamo dicendo no che sei back più forte di new gate ci mancherebbe altro comunque tornando a noi il culmine è la fine della storia di questo grandissimo pirata fu la battaglia di gold valley dove la sua ciurma si scontrò con monche di garp e gol di roger questi due si erano incontrati casualmente o meno magari segno del destino lì per fermare appunto la ciurma di xebec naturalmente da quello che si è capito da quello scontro che sebbe che ne uscì sconfitto tant'è che poi la sua ciurma si sciolse e sappiamo anche una cosa molto importante che garp dopo ciò divenne la leggenda che noi conosciamo l'eroe della marina e questo è molto molto importante adesso innanzitutto andiamo ad analizzare tutte le info pervenuteci su xebec nei vari capitoli andremo inoltre a parlare del legame tra marshall di teach e rox di xebec g back un legame che molto probabilmente può essere anche inteso in termini di volontà però adesso mi vado a spiegare con calma innanzitutto c'è una doppia contrapposizione monche di luffy e gold di roger da una parte e marshall di teach e rox di g back dall'altra perché ci spieghiamo la volontà della di il sogno il dream la nemesi degli dei la di può significare tantissime cose naturalmente possiamo pensare anche all'accezione negativa naturalmente nella relatività che ritroviamo all'interno del manga perché rufi e teach sono la doppia faccia della stessa medaglia naturalmente come potevano esserlo anche gol di roger e rox di xebec allora per questo motivo secondo noi teach potrebbe avere ereditato la volontà di rox anche con un'accezione forzata attenzione nel voler emulare copiare le sue gesta quindi non per forza come una trasmigrazione degli ideali attraverso una nascita posteriore del personaggio o magari addirittura potrebbe essere un suo discendente perché no comunque è la metà cattiva che vuole dominare il mondo e vuole essere il re e questo fa la contrapposizione a rufi l'uomo più libero del mondo lui vuole essere il re dei pirati per essere libero non vuole dominare proprio nulla ed infatti rox si fa da contrappeso a due personaggi con la di garp e roger da qui si rafforza il nostro concetto dello scontro tra volontà della di adesso andiamo un attimo a vedere le similitudini fra teach e rox cosa che vi ricordo bene noi facciamo già all'epoca nel video su teach che poi vi metterò qui nelle schede allora il nome della nave della zattera saber of xebec saber of gbeck ci ricorda proprio quello che il nome di rox di xebec e dunque può essere sicuramente ispirata in suo onore saber in inglese significa sciabola mentre xebec è il nome inglese dello sciambecco un'imbarcazione di origine araba che si diffuse nel mediterraneo ma in passato molto strano molto interessante che non sia mai stata mostrata la taglia di rox probabilmente perché doveva essere insabbiato il suo nome e la sua storia tant'è che molti marine non sapevano nemmeno dell'esistenza di xebec di rox sembra quasi che ci fosse stato un vero e proprio dannazzi memoria inoltre saber of xebec può anche significare il sapere di xebec e questo è ancora molto molto interessante un altro collegamento molto importante è l'isola in cui barba nera oggi ha la sua sede cioè acinose beive l'isola dei pirati kaizoku shima è un luogo definito come un paradiso per loro per i pirati appunto e secondo noi è ispirata all'isola tortuga della realtà questa isola è formata da una roccia gigante a forma di teschio pirata con una bandana essa è l'isola dove si radunarono tutti i pirati rox inoltre la forma dell'isola è uguale al jolly roger della nave tra virgolette dei pirati rox appunto sulla prua si trova questo diciamo stemma questo simbolo naturalmente questo simbolo è raffigurato anche sulla bandiera dei pirati rox molto importante comunque che su quell'isola lì è stato anche creato inventato il devi back fight che anche il metodo attraverso il quale teach ha soldato i pirati più pericolosi rinchiusi a livello 6 di impel down ma ciò ci ricorda anche come la shuma di kaido sia una shurma non equiordinata ma basata sulle gerarchie imposte dalla forza ricordatevi il ruolo delle calamità messo in paleo per i topi roppo se avessero trovato la giovane Yamato infine adesso passiamo alle vere e proprie illazioni su che se beck sul suo possibile frutto e sui suoi poteri veramente qualcosa di incredibile noi pensiamo che lui fosse il precedente possessore del dark dark di questo ne parlamo anche nel video di teach no che oramai penso abbia due anni più o meno vabbè ve lo metto nelle schede così ve lo guardate nel caso comunque noi sappiamo che il potere del dark dark l'oscurità è in grado di assorbire tutto qualsiasi cosa qualsiasi oggetto ma importante esso annulla il potere dell'utilizzatore dei frutti del diavolo di qualsiasi genere essi siano naturalmente ne parlamo già nel video di teach che vi metterò nelle schede in modo tale che potete guardarlo anche voi naturalmente torniamo a noi noi sappiamo che il potere del dark dark l'oscurità è in grado di assorbire qualsiasi cosa qualsiasi oggetto tutto e soprattutto è importante che riesce ad annullare il potere degli utilizzatori di altri frutti del diavolo di qualsiasi genere essi siano e questo potrebbe aver favorito se beck contro i suoi subordinati noi sappiamo infatti che la maggior parte di loro fosse fruttata tranne caido che all'epoca era un mozzo e che ottenne il frutto successivamente ai fatti di god valley ricordiamoci anche quando abbiamo visto l'utilizzo del dark dark sia contro rufy che contro ace che oltre ad annullare i loro poteri rispettivi li attirava verso teach come se fosse un centro di gravità naturalmente il suo frutto però non gli dona l'intangibilità come gli altri roggio e lo vediamo nei vari scontri che ti ci affrontano con barba bianca con ace con rufy naturalmente però comunque ha una capacità di cura molto rapida e a favorire questa nostra ipotesi potrebbe essere data dal fatto che xebec fu sconfitto da roger e garp che ad oggi non dovrebbero essere fruttati almeno questo è quello che ci dice il magna naturalmente rox potrebbe aver avuto potrebbe essere stato un grande possessore di tutti e tre acchi e non dimentichiamoci che anche che aveva anzi no che ha perché non c'è più che aveva la d nel nome infine analizziamo alcuni riferimenti storici sulla pirateria visto che con alta probabilità rox potrebbe essere ispirato a un vero pirata ci riferiamo a rock il brasiliano il pirata olandese rock il brasiliano è stato uno di quei volti pirates che entra di diritto nei racconti storici del tempo il vero nome ad oggi però è oscuro era un pirata carismatico e popolare tra i colleghi i quali lo battezzarono appunto la roccia brasiliana il brasiliano sostava spesso a porte royal per riposare per spendere denaro e reclutare i membri si guadagnò subito la fama di uomo pericoloso in una città che era già molto pericolosa rock si ubriacava a dismisura e vagava per le strade della città attaccando i passanti a caso con la sua sciabola rock il brasiliano era quindi crudele impulsivo aveva una totale mancanza di autocontrollo infatti torturava e uccideva i prigionieri senza giustificazione gli uomini che gli hanno disobbidito sono stati tutti quanti puniti lo trattavano quindi con un misto di paura e ammirazione non c'è mai stato un ammutinamento a bordo delle sue navi erano tutti terrorizzati il video è finito quindi adesso se siete arrivati fino a qua commentate con rock il brasiliano hashtag rock il brasiliano vi ricordo che collegate a questo video ci sono la live al capitolo 957 chiamata tic la volontariata di rocks di xebec re del mondo ed il video appunto su barba nera stesso ricordatevi di iscrivervi ai nostri social le due pagine facebook il gruppo facebook canale telegram instagram youtube appunto attivando la campanella e twitch grazie al prossimo video dei massimi esperti